Prosegue fino al 30 novembre la mostra Cabiria, i cento anni del mito, realizzata dal Consiglio regionale in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, il Museo del Cinema e la Sartoria de Valle. L'esposizione celebra il centenario della pellicola del regista astigiano Giovanni Pastrone ed è un viaggio attraverso arte, cinema e spettacolo, una suggestiva visione del secondo colossal cinematografico di tutti i tempi, dopo Quo Vadis. Quali sono i tesori che ci fa scoprire Cabiria, i cento anni del mito? Sono in mostra i materiali, il costume di Annibale, di Asdrubale, di Scipione l'Africano e tanti altri, poi tante altre cose più mistiche, più legate al mondo cartaginese, quindi ai riti, soprattutto quello del Tempio, quello famoso, del Moloch. Tutti questi materiali hanno trovato una specie di firma notarile, cioè il Museo Nazionale del Cinema che presenta dei fotogrammi di film che testimoniano che i costumi che sono esposti sono realmente, effettivamente quelli del 1913 usati per realizzare la pellicola.